Primo degli esclusi nella circoscrizione nord-ovest per il pavese Angelo Ciocca, non scatterà di nuovo il seggio all'Europarlamento. Il generale Roberto Vannacci è infatti deciso di entrare proprio nel nord-ovest, sfruttando l'ottimo risultato ottenuto grazie alle oltre 186.000 preferenze conquistate. Una decisione nell'aria già da diverse settimane, divenuta in quest'ora ufficiale, con il comunicato stampa diramato dalla Lega. Il segretario Matteo Salvini, dopo aver ringraziato Vannacci, ha spiegato di aver incontrato Ciocca in mattinata, uomo aggiunto che ha la mia piena stima e fiducia e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco. Una mara consolazione per Ciocca, che dal record del 2019 ad oggi ha visto più che dimezzate le proprie preferenze, passando da 90.000 a circa 38.000 voti alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Intorno all'ora di pranzo, l'orme ex euro parlamentare pavese ha affidato ai social network il suo pensiero. Un lungo post condiviso sulle piattaforme Facebook e Instagram per ringraziare la Lega, i militanti e i sostenitori che lo hanno accompagnato in questi anni di battaglie al Parlamento europeo. Non è mancata una stoccata ai detrattori, alle poche persone che provano sentimenti meno nobili nei miei confronti, ha scritto auguro di credere nel lavoro e di trovare soddisfazione nei traguardi. Chiusa la partita delle candidature multiple, si completa così la pattuglia leghista Bruxelles. Oltre a Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri, elette nella circoscrizione di Ciocca, troveranno un posto Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli.